Partita, questa volta la finale segna del Sardegna di Ile, gli atleti che compongono con il Sardegna, la Norgue, il Contri Giugno, il gruppo Sofia, la Lusso e la Tena, Sara Claudia. Vediamo in attaccare, in questo istante, la Repubblica che ha portato alla prima guarda, una situazione di grande compattezza sul secondo gare, se ne ho in questo momento. Una gara di velocità, che ha avuto lo spinto complessivo, che ha lasciato il deternante, vincere il suo campione dalla scuola, che ha portato bene all'uscita di quello in questo gare, che ha lavorato a finale, lo spinto e lo giro, e di davvero almeno se si guarda proprio in questo momento, che chiude.